...mi ragazzi mi abit devamo da Ievo, da Abo, da Ievo, da Ievo... ...che stavano ruggiarie, mi fanno ammolire, purtroppo stavano ammolire come buccio. ...e poi nelle case, poi vanno è... Ma non so fino a quando vanno a conto, le ragazzini stavano ruggiando bene. Eh, ci sono tutti. Che c'erano voi, le ragazzini stavano a posto, non mi sento il treno di UI, Grazie. Grazie. Grazie.